E bella a tutti ragazzi bentornati in questa nuova puntata della mia serie di minecraftita Vi do oggi il benvenuto di fronte alla mia stazione di treni che come potete vedere è pressoché completata Ho finito tutta la parte delle banchine, spero che vi sia piaciuta Se non avete visto la costruzione andatevi a recuperare i due episodi precedenti Che riguardano appunto la costruzione della stazione e della parte delle banchine dove ci sono i binari E fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se c'è qualcosa che posso migliorare secondo voi Io sicuramente ascolterò i vostri consigli Però adesso andiamo subito a immergerci nella costruzione di oggi perché sarà qualcosa di molto bello Che volevo fare da tanto, quindi cominciamo subito perché anche questa sarà una costruzione Che per completarla richiederà due episodi interi Allora come potete notare sono venuto in questa zona qui un po' laterale rispetto alla mia prima casetta Che ho costruito in questo mondo di minecraftita, là c'è il portale del nether insomma Quindi siamo abbastanza vicini perché c'era questo bel laghetto naturale Che ho voluto sfruttare per fare una costruzione che volevo fare da tanto e che ho molto a cuore E cioè quella di un piccolo giardino zen in stile giapponese Come prima cosa ho costruito qui una piattaforma di terra Potrà essere un po' ancora modellata come vorremmo ma pressoché così sarà Dalla quale ho fatto scendere una piccola cascatella che arriva sino appunto al laghetto E in cima alla quale faremo poi una costruzione nel prossimo episodio Che vedrete che sarà veramente molto figa e molto epica Comunque oggi occupiamoci da parte del laghetto zen E quindi cominciamo subito perché ci sono tante piccole cose da fare Come prima cosa voglio abbellire tutta la parte di questa cascatella che abbiamo fatto scendere dalla montagnola E quindi come vedete ho cominciato ai lati a piazzare vari ortaggi barra fiori Abbiamo messo qua le canne da zucchero Da questo lato tutta una fila di grano Poi fiorellini e insomma facciamo così sino in cima Ok abbiamo finito Vedete c'è un bel po' di colore Abbiamo usato sia il grano Sia qui le canne da zucchero Sia un sacco di fiorellini colorati Soprattutto queste bellissime piante di rose Che fanno un po' da ingresso verso quella che sarà la costruzione Che poi faremo qua sopra Ma niente spoiler Adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo abbellire un po' qui intorno al nostro laghetto Come vedete qua ci sono già tanti bei fiorellini rossi Aggiungiamo ancora un po' di colore Da questa parte facciamo un bel giardino tutto di rose E poi in questa zona qua Dato che qui intorno abbiamo tanta natura Piantiamo così un po' random degli alberi Alberi di tutti i tipi E poi con il nostro bel bom meal Facciamoli crescere belli Sì veramente belli Fanno atmosfera e fanno anche ombra Se uno vuole venire qua a rilassarsi Quello che voglio fare adesso è costruire qui Un piccolo ponticello che attraversa da parte a parte il nostro lago Dato che stiamo facendo una cosa zen Non deve essere una cosa nemmeno troppo complicata Neanche come design Perché si sa che comunque lo zen giapponese Prevede delle forme poco complesse Quindi ho preso il legno scuro di abete Che comunque si adatta bene allo stile giapponese E voglio fare dei pilastri che si alzano da in mezzo all'acqua Lo facciamo largo due il nostro ponticello E poi con gli slab facciamo quella che è la parte dove si cammina del ponte Facciamo salire di mezzo blocco Un altro mezzo blocco Dopodiché direi che a questa altezza possiamo mettere il secondo pilastro Questa volta un blocco più alto Un altro qui E dato che adesso siamo giunti alla metà del ponte Cominciamo a scendere dall'altra parte E completiamo così Diamo un'occhiata Il ponte è chiaramente speculare da entrambe le parti Perché si sa in Giappone comunque le costruzioni sono fatte il 99% delle volte speculari E quindi atteniamoci a questa regola costruttiva Adesso abbelliamo un pochino il ponte Usiamo le botole Poi direi mettiamo qua una staccionata per proteggere coloro che si avventurano qui sul nostro ponte Per evitare che cadano Così con queste fence laterali anche viene fuori un design molto carino Devo dire Quindi bene così E poi mettiamo qualche torcia per illuminare il passaggio dei nostri viaggiatori E anche per tenere lontani i mob che è sempre una buona cosa Allora direi che ci siamo Non è niente di che ma come avevo detto volevo mantenere uno stile molto semplice E quindi penso di aver centrato il mio obiettivo Adesso qui sotto gli alberi invece mettiamo delle belle panchine Le facciamo così ad angolo Qui invece magari ne mettiamo una singola Da quest'altro lato un'altra così ad angolo Così almeno la gente potrà venire qua E in mezzo a questa bella natura meditare un po', rilassarsi Insomma fare quello che meglio crede Usiamo i classici cartelli per fare da bracciolo Delle nostre sedie, delle nostre panche Ed ecco qua un bellissimo posto per sedersi E meditare guardando il nostro ponticello La nostra bella acqua Le nostre rose, il nostro grano Insomma si possono fare tante cose in questa piccola zona di pace e tranquillità Un altro tocco che voglio dare al nostro laghetto È quello di sostituire qui il grass intorno all'acqua con della ghiaia Questo perché in Giappone, nei giardini, nei laghetti zen La ghiaia è usatissima Quindi facciamo tutto il giro intorno al laghetto Questa ghiaia che abbiamo non penso che ci basterà Però comunque ne vado a prendere altra E mi faccio appunto tutto il giro qui intorno Sostituendo l'erba con la ghiaia Ok abbiamo finito qui con la gravel E adesso facciamo l'ultima cosa per completare il nostro giardino zen giapponese Che è la prima parte della costruzione totale che vogliamo fare Qui nella nostra zona Giappone appunto Quella che sto facendo è una stradina Che poi dovrà arrivare addirittura sino a casa nostra probabilmente E che voglio fare con qui le scale di cobblestone Perché riprendono un po' la texture e il colore della gravel Insomma che abbiamo messo tutto intorno al nostro laghetto zen giapponese E poi con al centro gli slab di legno scuro Che riprendono il colore invece del ponte che abbiamo costruito Chiaramente non mi metterò oggi a fare tutta la strada sino a casa Anche perché ci vorrà un sacco di tempo La farò poi piano piano nel tempo anche off camera E voglio fare la strada sia da qua che va verso casa Sia qui ai lati che collega altre parti del mondo Quella da questo lato andrà alla nostra montagnola che abbiamo costruito dietro E collegherà il laghetto zen giapponese All'altra costruzione che faremo nella prossima puntata Che è chiaramente parte integrante come abbiamo detto della nostra zona giapponese L'altra strada di qua non lo so Vedremo a cosa collegarla o dove andrà insomma Comunque devo dire che con l'arrivo della notte Con le torce che fanno luce eccetera È venuta proprio una bella costruzione Questa qui del laghetto zen giapponese È venuta proprio una bella costruzione Bene con la nostra strada che si avvicina al nostro laghetto zen giapponese Fresco fresco di costruzione Io direi che possiamo concludere qui questa puntata Spero che questa costruzione vi sia piaciuta Spero che vi sia piacendo come sta evolvendo la serie Perché a me piace la direzione che stiamo prendendo Stiamo costruendo tante cose un po' una diversa dall'altra Per variare anche gli episodi Non farli tutti uguali comunque E stiamo portando avanti tanti progetti diversi Tutti abbastanza epici direi Quindi sono contento E niente io vi invito a lasciare like Commentare e condividere se il video vi è piaciuto Soprattutto iscrivetevi al canale se volete continuare a seguire questa serie veramente epica E niente io vi saluto Bella